Stati Uniti e Cuba ancora più vicini. Dopo il disgelo politico fra Washington e Lavana riapre l'antica rotta turistica via mare tra la Florida e l'isola caraibica. Le autorità americane hanno dato il via libera ad almeno due compagnie di navigazione per effettuare un servizio traghetti tra Miami e Lavana. Non accadeva da oltre 50 anni. A partire dal 3 luglio una compagnia aerea inaugurerà un collegamento andato e ritorno tra New York e Lavana. Questo aiuterà il flusso di visitatori e ci sarà una maggiore possibilità anche per far rientrare attraverso i cubano-americani prodotti e mercanzia, dice un esperto del settore. Per quel che riguarda il collegamento via mare invece, la corsa tra gli operatori dei traghetti per accaparrarsi del servizio è già partita da tempo. Per ora il turismo tra Stati Uniti e Cuba resta proibito, ma gli operatori giurano sul fatto che ben presto anche questa barriera cadrà. E l'operazione di apertura di Cuba continua a 360 gradi. Domenica Papa Francesco riceverà in Vaticano il presidente Raul Castro in visita privata.